Polvere, ragnatele, cespugli d'erba e in qualche caso un fiore selvatico spuntato dal nulla danno la misura di una vita ferma tre anni fa nei paesi colpiti dal sisma, nelle zone rosse e nei borghi dove si attendono i nuovi progetti, dove ancora devono partire i lavori dopo le scosse del 2016. Quelli del tempo sono anche i segni utili ai carabinieri durante i servizi antisciacallaggio. Qui siamo nel territorio della Compagnia di Tolentino, che comprende 17 comuni. Dall'alto, a bordo dell'elicottero del quinto nucleo carabinieri di Pescara, si riconoscono le messe in sicurezza di Caldarola, il centro storico di San Ginesio, quello di Gualdo e poi l'area container di Tolentino. A terre militari dell'arma verificano se ci siano persone all'interno degli appartamenti lesionati, se le porte siano state forzate in un lavoro giornaliero iniziato, ormai quasi tre anni fa. Noi abbiamo svolto più di 13.200 servizi di antisciacallaggio e il nostro impegno su questo territorio, limitatamente la Compagnia di Tolentino, è stato di più di 66.000 ore impegnate sul territorio per verificare che nessuno entrasse negli appartamenti o anche negli esercizi commerciali, abbandonati, tetti crollati, porte sfondate, muri distrutti. Non era facile fin da subito saper riconoscere quale casa fosse stata abbandonata lì a se stessa e quale fosse stata eventualmente fatto oggetto di sciacallaggio. È proprio la conoscenza del territorio, questa continuità nei servizi, la nostra costante presenza, l'aiuto da parte della popolazione, piuttosto che anche da altre forze di polizia o alla protezione civile, che ci ha consentito di sapere punto per punto, angolo per angolo, quali fossero le abitazioni più colpite, quali vetri fossero stati rotti di recente piuttosto che no. Sono soltanto sei i casi accertati di sciacallaggio nel nostro territorio, nei 17 comuni. E in questi anni abbiamo denunciato altrettante persone, sei persone per sciacallaggio, una mera coincidenza di numeri. E abbiamo proposto, con foglio di via obbligatorio, 11 persone, affinché si allontanassero da tutti i comuni dell'epicentro, perché non avevano motivo di stare qui. Poi ci sono stati anche dei controlli per quanto riguarda il cast, il contributo di autonoma sistemazione, che più di 25.000 persone stanno ancora percependo nelle Marche. Assolutamente sì. Questi sono altri controlli che fanno sempre parte della nostra attività, che poi vengono proseguiti dalla Guardia di Finanza grazie alla loro professionalità e competenze tecniche. Quelli che sono stati definiti i cosiddetti furbetti del CAS sono stati individuati. C'è da dire questo, che fino a una certa cifra l'articolo specifico, il 316 terra, che prevede questa fattispecie di reato, prevede anche, non necessariamente, una denuncia a piede libero, da una certa cifra economica in avanti. La nostra attività preventiva ha consentito a molte persone di ravvedersi e di restituire, o quantomeno di uscire fuori dal giro del CAS. Grazie a tutti.